il 57% di loro è laureato ora questo dato è un dato record in assoluto il 57% di laureati su 300 milioni di persone di 30-40 vuol dire che questa popolazione di consumatori alla quale ci rivolgiamo ha degli strumenti tendenzialmente molto ben sviluppati per cogliere gli aspetti anche più sottili contenutistici, storici, culturali potenti in termini di comunicazione e di marketing dei nostri prodotti e servizi parliamo tendenzialmente con un consumatore detto proprio papale papale che è molto preparato e che è molto esigente